a sapevo che ce l'avresti fatta glitch grazie ben fatto racchio possiamo riavviare l'alimentazione della forza e come lo facciamo dobbiamo trovare la fonte di energia L'ultima volta l'ho vista al piano di sotto, oltre la porta stagna, ma... È al posto da te. Quella è una superporta! Deve essere qui che producono l'energia della porta, ma non vedo niente in giro. Scartobot ci ha mentito! Non saprei, ma se manca una fonte di energia, potremmo rubare quella nell'altra dimensione. Dove abbiamo un'intera stazione alle costole? Per il momento non vedo nessun'altra alternativa. Adesso pensiamo a cercare il Blizzon. Quello è! Quello è! È Juice! Dobbiamo distrarlo! Non c'è... Oh, cavolo! Non c'è niente che possiamo usare! È la team di golosite! Juice sembra affamato! Presto! È la nostra occasione per scappare! Ehi, per qualche motivo la dimensione in cui l'intera base ci sta cercando comincia ad avere una certa attrattiva. Almeno ci sono luci elettriche. Cos'è quel rumore? Fai e basta! Ratchet, non vedo Blizzoner da nessuna parte. Dovremmo cercare dietro quella porta blindata. Ma sembra decisamente chiusa. Perché non seguiamo i cavi sopra di noi? Potremmo disattivare il loco. Cresti aver ragione. Stavolta. Errore. Milancia rilevata. Oh? A me boidi! Non di nuovo! Cos'hanno le luci? Eccolo, è lì! È piuttosto... ...alla... ...mante. Minaccia rimossa! Ehi, attività! Ehi, quel terminale si è acceso! Diamo un'occhiata! Troppo primario di insattivare. Ehi, attività. Riproduzione di contenuti Presto, venite qui Ok, guardate il drill, l'ho visto da quelle parti e... Eccolo, vedete? E come fanno a dare così? Ma... come è un ciao? Che cosa vi sapevi? Mi state facendo male Fermi! Fermatevi subito! Era scarto, Borto E credo stesse parlando di Juice Andiamocene da qui! Ah, questo blocco è controllato da una valvola Forse hanno dimenticato di rimodernare la stanza Via! 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 Dunque, se io fossi del Blizzon, allora dove sarei? Uh oh. Ratchet, stai bene? Sì. Per fortuna il mio filtro o due funziona ancora. Non lo usavo da anni. Ratchet, stavo pensando a quello che hai detto sui Lombax e sul mettere a rischio la tua vita. Anch'io ho nostalgia di Tavali. Era una vita... tranquilla. Persino allegra. Quando mi hai chiesto di fare squadra, non volevo perdere tutto. Ma sono felice di aver rischiato. Grazie. Significa molto per me. Ma... sono sicuro. Non preoccuparti. Ora posso essere io a credere in te. Come hai fatto a vederlo? Granchi tossici in arrivo! Guarda, una chiusa d'aria. Oh, oh. Oh... andiamo torna a sparatoria conclusa, ok? Ehi voi due, volete comprare qualcosa, attrezzature in saldo a soli 100 Fathom? Miss Zurkon? Che cosa ci fai qui? Se Zurkon Junior vuole studiare Economia Esistenziale all'Università di Bogon, per Giove mi farò in quattro per procurarmi i soldi necessari! Ottimo inizio! E ora? Amerai quel potenziamento! Un buon potenziamento mi risolleva sempre l'umore! Regalati un potenziamento! Te lo sei meritato! Mi mancherai da morire, dolcezza! C'è un intenso campo magnetico. La fonte di energia deve essere vicina. Impossibile! Quei decoratori non sono trovati! Coratori! Allora ci decoreremo un po' di meno! Possiamo sentire, dolcezza! Sì, non è vero, non è vero. Ah! Viva il piede down. Ah! Ah!! Ah! Ah! Niente? Ah! Ah! H! Ah! 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 la fonte di energia è gius dobbiamo liberarlo guarda cosa gli hanno fatto non mi stupisce che sia arrabbiato rete se non gli diamo noi un'occasione chi lo farà veniamo in pace ragazzone è un simbolo di gioia o un simbolo di rabbia ci sta aiutando ci sta aiutando vai in vista gius sempre che tu riesca a capirmi finalmente portate l'artiglieria pesante eh forse è anche troppo attraverso grazie a tutti attraverso Ehi, Jus, domanda indiscreta. Non è che conosci un altro modo per alimentare la Forgia Rubion? Ci sta chiedendo di seguirlo. Padre, no, a volte viene a rischio. Il Blizzard? Vuole venire con noi? Qualunque altro posto è meglio di questo, no? Potrebbe aiutarci ad alimentare la Forgia. Ancora con noi, Jus? Andiamo! La Forgia Rubion è di sopra! Andiamo, JC, sono io! Il vecchio SB! Massima potenza ripristinata. Progetti caricati. Ha funzionato? Sì, Kit! È fatta! Tu sei un'ottima spalla. Urrà per i nuovi amici! Adesso non ci rimane che tornare alla nostra nave. Nessun problema. Questo ascensore vi porterà dritti. Tornate presto, ragazzi. Grazie. Lo faremo. Eh, squarto. Ma come ti è venuto in mente, scarantini? Anch'io voglio inventare soprannomi così geniali. Ma sì, ho scarto. Ma è venuto, scarti. Blank! Rivet! Abbiamo il dimensionatore! Impossibile. Aspetta, abbiamo. Ne ero sicuro. E noi abbiamo trovato il quarzo fasico. Sì, beh, troviamoci da Zurchis per costruire quest'affare. Oh. Quindi incontrerò qualcuno. Perché ti preoccupi? Hai incontrato me? Mi direi che è andata alla grande. Sono caduta dagli archivi davanti a te. E ho gridato. Un sacco. Vero? Eh. Beh, ecco. Cerca solo di essere amichevole. E non stare a pensarci troppo. Non pensarci troppo. Ok. Ok.